12 anni e 6 mesi di reclusione per Don Edoardo Scortio e questa è la condanna subita dall'ex parroco di Isola Caporizzuto nel processo Johnny svolto con rito ordinario davanti al collegio penale del Tribunale di Crotone presieduto dal giudice Marco Bilotta e che vedeva la sbarra a 38 persone. Il Tribunale ha condannato 21 persone e ne ha assolte 17. Il processo, lo ricordiamo, iniziato il 25 luglio del 2018 scaturisce dall'operazione Johnny del maggio del 2017 grazie alla quale la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha portato alla luce le ingerenze della Coscarena nella gestione del centro di accoglienza per migranti e nelle economie del territorio di Isola Caporizzuto. Complessivamente ad essere state indagate erano 124 persone. L'operazione ha fatto registrare 68 arresti tra cui quelle eccellenti dell'ex governatore della misericordia Leonardo Sacco condannato a 17 anni e 4 mesi in abbreviato e del prete di Isola Caporizzuto Don Edoardo Scordio accusati di associazione mafiosa. Nella sentenza tiene l'accuso principale che riguardava appunto le vicende legate alla gestione del centro di accoglienza di Isola Caporizzuto e in particolare della mensa per i migranti. Entrambi avevano stretto un patto di affari con la cosca capeggiata dal 64enne Pasquale Arena detto Anasca condannato a sua volta a 20 anni e due mesi dal GUP e dopo la sua detenzione da Paolo Lentini 16 anni e 4 mesi in abbreviato indicato dagli investigatori come il reggente del clan. Avrebbero inoltre secondo gli investigatori lucrato illecitamente per 36 milioni di euro sui 103 milioni ricevuti tra il 2006 e il 2015 dalla misericordia per la gestione del CARA. Una lettura contestata dal religioso e dai suoi difensori che nel processo hanno ricordato l'impegno antimafia del sacerdote cercando di smontare le accuse ma i giudici forti evidentemente anche delle precedenti pronunce hanno condannato il sacerdote ed altri 20 imputati.